Io ho una piccola azienda di restauro e la sovrintendenza mi deve 160.000 euro da un anno. Sapete come pago le mie collaboratrici? Con la pensione di mia nonna. Claudia, era tua nonna, dice che sta per morire. Tu devi continuare a prendere la pensione di tua nonna. Non si può. Eh, si può invece. Distesa non ci sta. Solo per pochi mesi, nonna. Oh, signore! Guardia di finanza, lei è in arresto. Ma sto maresciallo non ce l'ha una vita. Quello è un romantico, vuole l'amore. Claudia Maria Lusi. Ci sarebbe una piccola stranezza sulla pensione della nonna. A cosa devo il piacere? Una piccola ispezione fiscale. Cosa stai facendo? Controllo. No! No, no, non è un ingasino. Mi piace. Mi sta pure corteggiando. Scontrino. Chi è? Oh! Mi hai toccato una tetta. Sì. Mi sembrava un gesto coerente col contesto, no? Cioè io faccio tutte le categorie di U-Porn e questo si innamora con mezzo paccio? Cosa ho fatto di male? Hai surgelato tua nonna, tesoro. E tu? Qualche cadavere nascosto? Cadavere? Non sai mai dove metterli. Bisogna scongelare. Ma noi l'abbiamo rimessa in freezer. La platessa. La vecchia non c'è più. Ragazze, può entrare un maresciallo della finanza? Sì. Ma dai, la nonnina. Signora, com'è andata a Chianciano? Per gli amanti del cinema italiano ci sono delle novità in arrivo, dei work in progress, a partire dal nuovo film di Gabriele Mainetti, che pare stia lavorando ad un progetto misterioso, nel senso che non se ne sa ancora una cippa, e sono appena iniziate le riprese. Però so che sarà coscieneggiato insieme a Nicola Guaglianone, con cui già aveva collaborato per Lo chiamavano Gigrobo. Il film dovrebbe intitolarsi Freak's Out, però potrebbe essere provvisorio, e attualmente viene classificato come drammatico. Anche Matteo Rovere, dopo Veloce come il vento, tornerà presto con un nuovo film, dal titolo Il primo re, una coproduzione italo-belga a sfondo storico, e nel cast vedremo Alessandro Borghi, Fabrizio Rongione ed Emilio De Marchi. Una particolarità del film è che verrà parlato una lingua ricostruita precedente al latino. Eh, allora, allora, ho destato la vostra curiosità? Presto vi darò maggiori dettagli su trama e date di uscite, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mi raccomando. Ciao da Valeria.